amiche amici benvenuti a un'altra intervista musicofila chi è la ragazza di fronte ai vostri schermi è semplicemente una delle maggiori e più promettenti violiniste italiane stiamo parlando di francesca bonaita ciao francesca ciao alberto buongiorno a tutti grazie mille ovviamente di avermi invitato ti seguo da tanto tempo e già solo sapendo della tua meravigliosa sigla con in cui campeggia l'immagine con te e firenze dietro sono già un po emozionata no ma l'emozione mia perché io ti bramavo da qualche mese e ho pensato fosse arrivato il momento di chiamarti allora come ben sai con tutti gli ospiti che appunto sono miei ospiti qui nelle mie interviste musicofile partiamo con questo percorso storico dagli inizi nel mondo della musica il mio approccio con il mio violino con lo strumento è stato è avvenuto fin da tenerissima età avevo più o meno quattro anni e mi ha destato fascino dal primo sguardo quando ero dall'alto della mia galleria a cui mia mamma mi aveva regalato l'abbonamento per la stagione della Verdi a Milano all'auditorium in Largo Mahler e dall'alto della galleria vedevo la fila dei violini danzare e ondeggiare sinuosamente e da lì ho veramente avuto una grandissima curiosità Francesca ti blocco tu hai usato secondo me un lapsus interessante perché hai detto danzare e io credo di sapere che tu forse saresti voluto diventare una ballerina dico bene hai fatto i compiti bene sì benissimo è stata forse la mia primissima grande passione e in realtà fino alle 12 13 anni pensavo molto sinceramente che avrei potuto avere uno sbocco professionale per quanto riguardava la danza io ho iniziato poi il invece lo studio per violino a sei anni più o meno ed è stato ovviamente uno studio iniziato per gioco e poi dopo non avevo assolutamente minimamente l'idea di pensare alla musica come una vera e propria professione ma partita come una grandissima e forte passione da me e richiesta fortemente richiesta i miei genitori e poi dopo con il maturare insomma della mia personalità il passare del tempo attorno ai 15 sì 14 15 anni iniziato a pre acquisire sempre maggior consapevolezza da lì veramente pensato che potesse prendere poi la di una professione vera e propria però io sì pensavo pensavo di avere una carriera già progettata per me sulle punte di ballerina di danza classica poi questo non è avvenuto ed è stato il violino anche che ha preso un po il sopravvento poi in realtà avevo anche tante altre passioni a latere però forse di questo magari lo snocciolamo durante l'intervista è vero che io ho continuato i miei studi a livello puramente accademico in direzione classica e io ho frequentato il liceo classico e pensavo anche come altra opzione di carriera di scrivermi a lettere classiche in direzione poi di uno studio verso l'archeologia della dell'arte greca e lì è stata un'altra grande passione quindi avrei avuto questi altri piani b e c che e poi dopo sono sfumati senti francesca un po anche così studiando il lessico che stai usando e anche guardando un po il tuo volto sembra di vedere un velo di rammarico e quindi è ovviamente scontata la mia domanda se hai dovuto fare tanti sacrifici o se alla fine il gioco è basta la candela no no non non parlo assolutamente di rammarico è chiaro che se io avessi potessi avere a disposizione una giornata di 48 ore chiaramente infilerai tutto quello che vorrei fare detto questo assolutamente no non ho alcun rimpianto il violino è la mia priorità è la mia il mio fulcro la mia stella polare in questo momento ma in realtà poi queste tutte queste passioni che chiamiamo secondarie terziarie io penso che poi confluiscano un po nel mio modo di vedere la vita nel mio modo stesso di suonare perché penso che poi ogni musicista ogni persona suoni e si esprima sul palco per per come è poi nella vita come come persona e quindi dal palco poi si possono capire gli interessi di una persona alla personalità il proprio carattere quindi penso che poi tutto confluisca in un unico grande fine un grande obiettivo che poi è quello di suonare trasmettere raccontare emozioni raccontare un vissuto esperienziale personale non indifferente allora siamo decollati e andiamo subito a quote altissime perché dimmi se sbaglio ma tu hai suonato nella carnegie o di new york che per chi non lo conoscesse e forse la più importante è la sala da concerto con la s con la d e con la c maiuscola e volevo che ti raccontassi un po di quell'esperienza quindi come ci sei arrivata e poi proprio di quando hai suonato è stata un'esperienza emozionantissima neanche a dirlo è stata grazie al mio premio premium concorso internazionale il cui concerto dei primati avrebbe dato la possibilità ai vincitori di viversi proprio in questa sala che è celeberrima e da lì il viaggio è stato con è stato affrontato con una grande trepidazione non vedevo veramente l'ora di suonare e il concerto è ancora adesso uno dei miei ricordi più cari l'ho vissuto con una grandissima serenità e anzi con la voglia di dare il mio meglio e di estrinsecare la mia interiorità anche al pubblico oltreoceano è stato veramente bellissimo poi il ritorno non è stato così bello perché mi ricordo ancora il volo del il volo che è stato forse l'unica volta in cui ho pensato veramente abbiamo avuto talmente tante di quelle turbolenze è stato impegnativo io un pochino soffro l'aereo e poi ovviamente adesso con una vita itinerante mi sono molto abituata però il volo è stato un po un po meno divertente invece l'esperienza è stato uno dei miei più più cari ricordi ecco un po in parte mi hai risposto perché un'altra cosa che avrei voluto trattare e appunto tu sei oramai una violonista famosa hai partecipato a molti e hai vinto tanti premia di concorsi internazionali e io ti avrei voluto chiedere se se era uno che ricordavi in particolare forse è presumibilmente quello che poi ti ha portato a New York ma in realtà sono tanti concorsi che ricordo con grande affetto in un certo senso perché mi hanno dato la possibilità e l'opportunità poi grazie ai concerti premio di esibirmi poi all'estero in sale importanti e prestigiosi e quindi anche questi sicuramente danno grandi sbocchi e possono aiutare adesso a dare sbocchi nella carriera e a dare opportunità a livello professionale poi è vero che nel 2021 non possiamo pensare di basare la carriera solo esclusivamente sui premi ottenuti ai concorsi in quanto oramai non è solo quello che garantisce una carriera stadile duratura ma c'è una serie di più elementi poi è vero che la dimensione del concorso se devo veramente pensare a una dimensione a me a fine non penso che sia quella del concorso nel senso che io la competizione la vivo in primis con me stessa la penso proprio come una sfida sempre a superare i miei limiti ma ogni tanto mi è capitato di soffrire l'ambiente di altissima competizione mi viene in mente adesso l'intervista che ho letto di Jacobs che prima della finale alle olimpiadi insomma parte che ovviamente con la grande pressione del momento ha riscontrato una differenza di atteggiamento tra gli altri suoi competitors che erano erano ovviamente giustamente molto concentrati sull'obiettivo e quindi neanche si curavano degli altri candidati e invece lui dice che dava il 5 a tutti quindi aveva un atteggiamento molto sportivo molto anche rilassato io auguro sempre il meglio all'avversario e soprattutto penso che anche dall'avversario più temibile anche nel caso di candidati che poi vadano avanti anche a discapito tuo comunque si possa e si debba imparare molto quindi onore e merito agli avversari non sempre è così e ogni tanto mi è capitato di soffrire ecco come sto vedendo tu stai apparendo come una persona molto sincera trasparente umile altruista però questo è quello che emerge da fuori volevo chiederti se quello che sto percependo io e no no è la verità però volevo chiederti se quello che percepisco io è una cartina di tornasole di quello che percepisci anche tu cioè tu dovendo tratteggiare così con delle pennellate sommarie la tua persona come ti definiresti ti do così delle idea di più sincera o con la maschera più egoista o più altruista impulsiva o riflessiva insomma metti gli aggettivi che più pensi meglio ti descrivano sicuramente la sincerità è un tratto che identifico come mio quello sì quello sì posso dirlo penso e spero soprattutto che trasparia anche dal dal modo poi in cui suono mi auguro che le persone che vengono a sentire i miei concerti poi possano nel nel loro ritratto che personale che nell'idea che loro si fanno di me come musicista spero che identifichino come una persona buona e altruista sicuramente mi alzo tutte le mattine mi guardo lo specchio e spero di essere una persona buona questa è la cosa più importante per me e il motivo per cui per me il violino è nato proprio come come mezzo per esprimere la mia interiorità e il mio vissuto e spero proprio e non è stata una corsa ecco non penso che sia una corsa a chi arriva prima non penso che sia una corsa a chi attacca il terzo tempo più veloce ma ognuno abbia poi i suoi tempi e poi ognuno ha soprattutto il suo percorso personale che che varia a seconda del contesto delle situazioni di degli incontri che che uno poi ha nella nella sua vita nel mio caso l'incontro con i miei maestri ha segnato tantissimo il mio percorso così come anche anche i concorsi che ho avuto che mi hanno dato la possibilità anche di di suonare da solista con l'orchestra penso a al concerto di tchaikovsky che che ho avuto l'occasione di debuttare in Romania a Bacau sempre anche questo in seguito al primo premio al concorso internazionale soloist di Vienna e quindi ci sono tante poi esperienze che si aggiungono nel bagaglio personale e ognuno poi deve seguire anche la cifra stilistica della propria persona io penso di essere una persona sicuramente apparentemente pacata poi sul palco trovo la mia dimensione naturale che è un misto dipende un po' anche ovviamente dal dalla situazione però in parte in parte impulsiva in parte anche molto razionale quello quello sì lo riconosco un po' fuori conosciuto il modo e l'attitudine di Enrico Fagone di cui ho seguito l'intervista che è stato un grande incontro tra l'altro del mio percorso finora è perché ho avuto l'occasione di suonare con lui il gran duo di Bottesini a Salò al festival internazionale violinistico e lui anche dalla sua intervista ho riconosciuto molto la sua persona quindi in parte molto riflessiva molto posata e in parte una grande un grande impulso irrazionale un po' dionisiaco che si sfrutta sul palco e quindi cerco un po' di trovare un equilibrio tra tra queste parti di me sì lo è un po' conciliare l'appollino con il dionisiaco diciamo così e hai invece dei vizi o comunque dei peccatucci che ti va di confessarci ma certo vai facciamo chiarezza penso di avere un difettuccio può essere con cui sto imparando ogni giorno un po' a convivere che è la pazienza nel senso devo e ogni giorno imparo che soprattutto e questo me lo ha insegnato proprio violino e me lo sta insegnando forzatamente è un po' una correzione coatta il violino mi sta insegnando a portare pazienza accettare il fatto che ci voglia tempo che ci voglia tempo che non venga tutto subito voglio tutto e voglio subito per il resto penso che sia questo il lato del mio carattere che sto tentando ogni giorno di smussare grazie alla pratica quotidiana e penso che sia proprio questo ma francesca discostiamoci pur fintamente dalla musica per un attimo l'ambiente da cui mi chiami mi induce in modo naturale a parlare di libri letteratura e quant'altro dovete sapere care amiche e cari amici che oltre a tutte le qualità e alle cose che ha fatto che ha detto francesca dimmi se sbaglio ma hai scritto anche un libro il cui titolo è la musica orfeo euridice il mi tema e l'adeguamento al contemporaneo e allora ti chiedo di cosa parla e appunto come è nato il tutto la passione per la scrittura mi è nata fin da piccola fin da quando frequentavo le scuole elementari io sono stata un'aluna del metodo montessori e i miei insegnanti insegnandomi la scrittura creativa mi hanno un po' instillato questa ulteriore passione e quindi in realtà è un poi è un ambito che ho sempre coltivato nel tempo poi io ho iniziato ho iniziato durante gli anni universitari scrivendo articoli online incentrati su figure femminili che con grandissima abnegazione nel tempo poi da compositrici a strumentiste si sono affacciate anche con con non poca difficoltà nei secoli al panorama musicale in seguito poi i miei editori della virginio cremona edizioni mi hanno contattato interessandosi proprio a tutto questo materiale di articoli che ho redatto in un paio di anni e chiedendomi proprio di prendere di dare una forma un po' al tutto redandomi un saggio che poi ha preso una forma definitiva durante il primo lockdown quindi tra le varie cose tra l'occasione di approfondimento degli aspetti interpretativi e anche tecnici e meramente espressivi sul violino c'è stata anche questa grande opportunità che ho avuto poi di concludere e redare il mio saggio che si incentra ovviamente sulla sulla figura di Orfeo che è il cantore mitico per Anton Amasia il primo musico il musico per eccellenza e da lì analizzando il mito che poi è il mito e le varie varianti e sono arrivata poi a esplorare le grandi rivisitazioni del mito e la la sua ricezione nel tempo dall'ellinismo in poi fino a arrivare alle esperienze lacerate del novecento storico nella letteratura italiana e questo è stato un lavoro che ovviamente si è dispiegato nel corso negli anni e frutto dei miei studi liceali universitari e poi ha preso una forma definitiva quindi nella storia greca quali sono diciamo i temi che più ti interessano? l'ellenismo sicuramente poi io ho sempre avuto una grandissima passione per i lirici greci questo è un mio grande soft spot e anzi se potessi trascorrere una giornata con Saffo forse lo farei certamente e sì quello poi mi affascina moltissimo in realtà anche il mondo dell'oratoria anche sapere tutte le perché da lì poi che partono tutte le tecniche di memorializzazione dei discorsi come come facevano gli oratori il fatto di immaginare ad esempio grazie alla tecnica delle stanze per cui ogni discorso è come se fosse un grandissimo edificio e ogni stanza poi corrisponde a un argomento o a una situazione diversa del nostro discorso che vorremmo affrontare parlando in pubblico alla Gorà che in questo caso nel 2021 diventa sempre più digitale e quindi l'oratore poi ripercorreva con la mente queste stanze e queste situazioni a lui care e da lì poi rintracciava i punti nodali del suo discorso e quindi ho avuto sempre una grandissima affascinazione per tutto ciò che riguarda l'arte e l'archeologia greca è un po' è un po' una passione a tutto tondo di tutta quella di quella sfera lì senti Francesca arriviamo quasi alla conclusione di questa nostra bella chiacchierata io volevo sapere se la tua persona la tua personalità è del tutto sbocciata o se senti che c'è ancora una sorta di germogliatura in corso come come ti percepisci questa è una domanda interessante io penso sempre di essere una persona penso di essere in divenire sempre e anche la musica stessa motivo per cui quando poi una battuta si ripete nello stesso modo una seconda volta io non sono più la stessa persona perché sono sempre sono diversa sono cambiata sono più vecchia ahimè e più saggia e con l'esperienza il mio vissuto precedente un po' come mi ha detto Ray Chen io ero stata selezionata sempre durante sempre penso sì durante il primo lockdown avevo inviato un video con il mio concerto di Prokofiev che avrei dovuto suonare da solista con l'orchestra della giudizia italiana poi ovviamente non è stato possibile ma poi è stato rimandato e ho potuto terminare la mia performance e terminare il mio percorso di studi del mio master specialistico in solismo adesso nel 2021 e è vero che appunto quel mio concerto di Prokofiev l'avevo registrato nel primo lockdown e l'avevo inviato per la serie di Ray Chen Reviews e io tra l'altro l'avevo inviato senza pensarci poi a un certo punto un giorno un mio amico mi scrive e mi dice Francesca perché ti trovo in un video di Ray Chen e Ray Chen appunto mi disse a un certo punto nel riterarsi di una frase di dire sempre che la seconda volta si è sempre più vecchi e più saggi non si è mai la stessa persona e anche perché con il passare del tempo io cerco sempre di arricchirmi di sollecitazioni altre che non provengano necessariamente dalla musica che sia il teatro che sia il cinema e quindi anche tutte queste esperienze del mio vissuto poi formano la persona e il musicista e la musicista che sono e quindi no ma anche poi in termini di opportunità professionali ne ho avute già sicuramente tante e che mi hanno dato grandissima soddisfazione come sì anche il mio debutto con l'orchestra della Zittria Italiana è stato forse uno dei miei momenti che può essere certamente un punto di arrivo ma è solo un punto di arrivo in quel momento lì poi dopo ci sono tanti altri obiettivi che poi ci si pone poi sempre più in alto sempre sempre più in grande si pensa almeno a me piace pensare così quindi non penso assolutamente di essere né arrivata né realizzata ancora tanto da studiare tanto da imparare ogni volta ci sono sempre le famose immagini montaliane di montaliana memoria che portano scritto più in là e quindi c'è sempre qualcosa che mi spingerà poi oltre io penso anche di essere spinta anche internamente proprio da un senso sempre di insoddisfazione che poi il motore un po' che mi induce a fare sempre meglio a dare sempre di più a lasciare sempre quel pezzo di cuore in più sul palco e allora sull'onda di questo fluire del Panterei arriviamo alla conclusione di questa nostra bella chiacchierata costruendo il consueto ponte tra passato dove siamo partiti e futuro dove ci lasciamo e allora Francesca molto banalmente ti chiedo quali sono i tuoi progetti futuri di cui ci vuoi e puoi parlare il progetto futuro che poi in realtà è molto presente e molto immediato sicuramente sono le due date i due concerti recitali in violino e pianoforte che avrò il 23 e il 24 settembre a Milano a Torino sono stata invitata a tenere due recitali per il festival di Mito che è un grande punto d'arrivo ma poi appunto come dicevo poi si tramuterà in un nuovo punto di partenza e sono molto grata al direttore artistico Nicola Campogrande che mi ha invitato e che ha costruito una stagione che tra l'altro il cui tema è proprio i futuri quindi vediamo un po' ed è un programma molto interessante che presenterò a tema fantasie con Francesca Leonardi è un'eccellente pianista di top gamma direi che mi sta affiancando nella preparazione di questi concerti e con cui avrò il piacere di condividere il palco a Milano e a Torino quindi questo è un futuro immediato presente e poi vedremo la pandemia ovviamente ha terribilmente indotto più a pensare a un tempo presente che non ad avere una progettualità però vediamo anche un po' il futuro cosa ci riserva sicuramente sto lavorando in direzione ovviamente solistica e cameristica come che è poi la svolta che hanno preso i miei studi però vedremo un po' ci vuole anche un po' di fortuna anche un po' l'essere nel posto giusto al momento giusto intanto nel presente amici di Milano e Torino venite a sentirmi e ovviamente come ti ho già detto in separata sede ti invito con grandissimo piacere perché hai una trovo che la tua capacità proprio di scavare in profondità sia veramente ludevole e quindi grazie di avermi incluso in questo grandissimo parterre di sfilata di grandi musicisti sono veramente onorata e anche contenta di aver fatto parte di questa serie e felice di aver avuto questa amabile chiacchierata con te cari amiche e cari amici siamo arrivati alla conclusione di questa nostra bellissima intervista musicof la ringraziamo Francesca Bonaita per essere stata con noi grazie Francesca grazie grazie mille Alberto a prestissimo e noi ci vediamo presto e per quanto riguarda noi amiche e amici ci vediamo come sempre alla prossima intervista musicof la ci vediamo ciao ragazze ciao ragazzi e ciao Francesca grazie ciao grazie a te grazie a te